Il 30 settembre doveva essere una sorta di deadline per la manifattura del casentino che produce lo storico panno casentino e invece le buone notizie sono due, l'importante offerta di un'azienda pratese, Bellandi, per rilevare la produzione e poter mandare avanti comunque questo stabilimento e poi una mail arrivata direttamente dall'Inghilterra dalla casa reale per un grosso quantitativo del panno casentino. La casa reale ha ordinato il panno casentino, il famoso color becco d'oca, un po' più vivo e si pensa che ci vengano fatte le famose mantelle per l'investitura del re Carlo. Si pensa che vengano fatte, è un grosso quantitativo l'ordine che è stato fatto, sono circa 70 pezze da 50 metri l'una, quindi insomma è una bella pubblicità per casentino. Maurizio Bellandi, al timone del gruppo Laniero Pratese, ha formalizzato un'offerta ai liquidatori cauzionata proprio per risolvere il problema immobiliare dello stabilimento oggi al mese, un incontro decisivo. Si decide se accettare la proposta di Bellandi in sostituzione della proposta fatta a quattro anni ormai, sono dell'aggiudicazione da parte di Aruba, della Verde Colli. Si decide, penso, la forma tecnica su come fare questo passaggio, senza che nessuno dopo possa avere modi di rivalza verso altri. Poche ore dopo la nostra intervista arriva la nota del sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini. Siamo felici, dice per la conferma del nuovo acquirente, che finalmente mette la parola fine alle incertezze legate al futuro di una delle eccellenze del Made in Italy. Avendo seguito personalmente e da vicino la questione, non posso che ringraziare il ministro Giorgetti, è stata salvata un'azienda e tutto il suo indotto. Intanto però le macchine rimangono ferme, la manifattura del Casentino è un'azienda fortemente energivora e fare i conti con il caro Bollette è il nuovo spettro contro cui combattere per evitare la chiusura. Intanto però le macchine sono ferme perché questa rimane un'azienda fortemente energivora. Purtroppo questo è un altro paradosso della giornata odierna, è che con questa bella notizia, e si spera un'altra bella notizia possa arrivare per l'immobile, o perlomeno della speranza, oggi noi siamo fermi e probabilmente anche lunedì saremo fermi con gran parte dei reparti perché a causa del caro energia noi siamo costretti a contingentare i tempi di lavorazione, altrimenti non ci salveremo comunque. Questa bella fornitura invece verso la Casa Reale quando dovrà essere pronta? La fornitura deve essere pronta brevemente perché questa investitura avverrà breve, quindi la fornitura deve essere fatta velocemente. Su questo non ci sono dubbi, il gasentino risponderà presente. Sì, sì, presente, è presentissimo, è tutto pronto.